Attenzione, gas in avvicinamento. Procedere alla zona sicura. Aspettiamo il contratto taglia. Andiamo sopra la zona di attrazione. Procedere a San Paolo. Divichetti in questo punto. Attenzione, un team nemico vi insegue. Bersagli disponibili. Al lavoro. Sto subendo il fuoco nemico. Sto subendo il terreno. Contrappi! NEMICO NEMICO QUI Lancia una stradezza. Contatto confermato. NEMICO QUI. NEMICO QUI. Ecco il mio bersaglio. Ho contatto. Gassi in arrivo. Mi puntano. Aspetta un movimento. L'ultima volta. Orpide. Inchevuto. L'area operativa. Sparano. NEMICO QUI. NEMICO QUI. NEMICO QUI. Falli fuori tutti. Ok. Allora. 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 No. Arriba. Un lancio d'equipaggiamento. Gatti, non mi metto. Nuova zona sicura e individuata. Gatti, non mi metto. 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 Non mi metto. Sto subendo il fuoco nemico. Gatti, non mi metto. Gatti, non mi metto. Gatti, non mi metto. Gatti, non mi metto. oh god guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda guarda, guarda come on god guarda ah Sì, non è stata per nessuno, ben fatto. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.